Vorrei cominciare da ringraziare tutti coloro che hanno seguito con estrema attenzione tutte le iniziative di questo festival e che purtroppo non hanno trovato posto in questa sala, anche nella sala qui sotto appositamente adibita e che attualmente sono anche in Piazza Duomo e che ci seguono da Piazza Duomo. Li ringraziamo per davvero l'interesse e li applaudiamo. Un applauso per loro per l'attenzione con cui in tutti questi giorni hanno seguito le iniziative del festival. Sono stati tre giorni, tre giorni e mezzo in verità, molto intensi, in cui abbiamo discusso in profondità di questioni che sono di grandissima attualità. E in effetti alla luce delle cose che venivano dette negli incontri, noi guardavamo poi alla realtà che veniva immessa anche dalle comunicazioni, dalle affermazioni di persone importanti. Abbiamo avuto per esempio il Presidente dell'Unione, Varampoi, che ha dichiarato qualche giorno fa che probabilmente la fase più acuta, più difficile della crisi dell'euro, quello in cui veniva messa in discussione la sopravvivenza dell'euro è ormai superata. Probabilmente Varampoi si riferiva al fatto che sui mercati finanziari sia un po' attenuata l'attenzione che il cosiddetto spread, questo termine che era entrato prepotentemente nelle case, nelle cucine degli italiani per diversi anni, è qualcosa di cui non stiamo parlando così offensivamente negli ultimi mesi. Ma in realtà se è vero questo è anche vero che la situazione dell'economia cosiddetta reale, la situazione delle famiglie, delle imprese, i dati sulla disoccupazione sono drammatici per molti aspetti. In quei giorni sono usciti anche nei giorni scorsi gli ultimi dati dell'Istat sulla disoccupazione in Italia, i dati davvero pesantissimi sulla disoccupazione giovanile, che è quattro volte quella per le altre fasce di età. Quindi ci siamo ricordati che ciò di cui stiamo discutendo effettivamente è che non possiamo rimanere, è vero, può darsi che la fase più acuta della crisi sui mercati finanziari è superata, ma la crisi che noi stiamo attraversando è sempre durissima e soprattutto dobbiamo affrontarla, non possiamo permetterci di rimanere in mezzo al guado, dobbiamo procedere. Credo che quasi tutte le relazioni al festival abbiano proposto, siano state costruttive nel dire cosa bisogna fare per completare quel costrutto imperfetto. Si è parlato della necessità di spezzare delle banche che sono diventate troppo grandi, soprattutto in Europa, che sono più grandi del prodotto interno lordo, del reddito nazionale di alcuni paesi. Si è parlato del fatto che bisogna comunque agire sullo stock di debito e bisognerà in qualche modo mutualizzarlo, perché è diventato troppo alto e bisogna intervenire, anche perché c'è questo rapporto perverso che si è messo in atto tra debito pubblico e sistema bancario. Quindi questo serve anche per superare la crisi bancaria, la crisi finanziaria e dare ossigeno alle imprese. Si è parlato di come andare avanti nell'unione bancaria, si è parlato delle cose nuove che la banca centrale europea deve fare, delle nuove funzioni che inevitabilmente dovrà acquisire nei prossimi mesi come unica struttura sovranazionale europea. Si è parlato della necessità di creare altre istanze, altri organismi sovranazionali europei e dare a questi anche una legittimità democratica, perché oggi chiaramente la banca centrale europea questa legittimazione democratica non ce l'ha. In questo contesto credo che molti di coloro che sono intervenuti a questo nostro festival hanno sottolineato come questo processo richiederà inevitabilmente delle cessioni di sovranità, il titolo centrale del nostro festival. Però queste cessioni devono essere delle cessioni concordate, come è stato sottolineato anche nell'incontro con Mario Monti e Silvi Goulart, devono essere delle cessioni volontarie e in qualche modo simmetriche che avvengono in modo uguale nei diversi paesi senza necessariamente dover passare sotto l'esperienza pesantissima. Silvi Goulart l'ha chiamata mostruosa, la troica, il mostro della troica. Questa mattina abbiamo avuto la testimonianza di Giorgio Papa Costantino, ministro delle finanze, agli inizi in cui la troica ha imposto le sue politiche alla Grecia. Quindi diciamo che c'è stato in questo festival un contributo di idee e di riflessione su temi molto importanti e penso che sia destinato a lasciare un segno, perché molte delle idee che sono state qui presentate e discusse, tra l'altro con persone che poi decideranno su queste cose, abbiano in qualche modo fatto fare davvero un passo in avanti alla discussione. Ma certamente rimane anche l'altra strada che è quella di invece tornare indietro, e cioè ripensare se davvero vale la pena di continuare con la moneta unica o su alcuni paesi, devono pensare di uscire dall'euro. Di questo ci parlerà in questa lezione conclusiva del festival, insieme ad altre cose, come al solito presentando un quadro di insieme, il professor Merlis. Jim Merlis ha ricevuto il Nobel per l'economia nel 1996, assieme a William Vickery, per il suo contributo alla teoria degli incentivi in condizioni di assimetria informativa. Il suo contributo fondamentale è un contributo del 1971, che davvero ha segnato, ha cambiato il modo di pensare la teoria della tassazione. È un contributo che ci insegna, ci spiega come i governi possono pensare le tasse, possono calibrare le tasse tenendo conto del fatto che gli cittadini hanno delle informazioni di cui il governo non dispone e possono utilizzare queste loro informazioni per in qualche modo cambiare i segnali. Soprattutto possono reagire, per esempio, riducendo l'offerta di lavoro, nel caso in cui la tassazione possa per loro rischiare di essere troppo alta. È un contributo davvero fondamentale che ha cambiato il modo di pensare degli economisti su questi temi. In quegli anni, proprio il 1971, è nella produzione scientifica del professor Merlis davvero importante. C'è anche un suo articolo con Diamond, altro premio Nobel, molto importante sulla tassazione e sull'efficienza per le imprese. Quindi sono davvero dei contributi importanti che hanno cambiato il modo di pensare degli economisti su temi molto rilevanti. E non è un caso che il professor Merlis abbia dato un contributo molto importante anche proprio alla definizione della politica economica. È stato consulente del partito laborista nel Regno Unito, nel definire appunto le tasse nel Regno Unito. L'anno scorso, per dire quanto rilevante sono i lavori di Jim Merlis, l'IFS, che è un centro molto importante, che è l'Institut for Fiscal Studies, che fa consulenza e propone, non soltanto in Inghilterra ma in tutto il mondo, delle ricette per cambiare, per riformare gli schemi di tassazione, ha deciso di intitolare quel rapporto, il rapporto che ha definito per fare delle proposte in generale su come riformare la tassazione nei diversi paesi, l'ha intitolato a lui, quindi il rapporto Merlis. Credo che questo sia un riconoscimento della grandissima importanza delle sue idee. Ma davvero non voglio portare via altro tempo al nostro relatore oggi e quindi do immediatamente a lui la parola. Funziona, mi sentite? Grazie, grazie molte per avermi invitato, grazie anche per le gentili parole. credo che dovrei iniziare sottolineando che a prescindere dalla reputazione che ho come economista Aspettiamo un minuto, Aspettiamo un minuto, lo diciamo anche per rispetto alle persone che ci seguono in Piazza Duomo. Adesso arriva un microfono e poi così possiamo riuscire. Benissimo, stavo spiegando che sono noto come macroeconomista, uno che ne sa di incentivi. Ma qui parlo di macroeconomia in un ambito che è diverso e lontano da ambiti come la tassazione e gli incentivi. Lo dico come segnale d'allarme perché talvolta mi vedo assumere delle posizioni piuttosto estreme sui problemi dell'Europa, ma perlomeno voglio che pensiate che questa sia una strada possibile, un'opinione possibile. Credo che sia importante avere una valutazione più accurata dei costi e dei benefici delle varie politiche. I biologi hanno una visione molto semplice di quello che bisogna fare quando si subisce un attacco. Ci sono due politiche possibili, combattere, resistere o scappare. E questo è il titolo della mia presentazione. Penso che i paesi europei che hanno una disoccupazione elevata attraversano una situazione che per loro è simile a quella di un attacco. La domanda è che cosa è possibile fare per loro. Credo che ci siano due possibili reazioni. Beh, effettivamente ce ne sono tre di reazioni, perché una è semplicemente affidarsi a questa corrente. Ma a parte quello, c'è una possibile politica di resistenza e quella di fuga. La fuga significa ritornare alla moneta precedente e non avere più l'euro, mentre combattere, resistere significa il modo in cui un paese o un gruppo di paesi potrebbero negoziare con la banca europea centrale, con i governi che hanno più potere perché si possano finanziare le spese. Ecco, entrambe queste posizioni sono possibili e alla fine sosterrò che essenzialmente il metodo della resistenza, il metodo del combattimento, è quello in cui si vede la politica della fuga come una possibile opzione in cui si dice se non ci finanziate un'espansione dell'Europa, allora dovremo scegliere quell'opzione, cioè andarcene. Vi ricordo, anche se probabilmente non ce n'è bisogno perché avete sentito molte presentazioni economiche, ma vi ricordo che una crisi economica significa essenzialmente una depressione economica, questo lo sapete. E' tutto cominciato negli Stati Uniti nel 2007, anche se alcune cose si sono verificate anche prima e poi questa crisi si è diffusa velocemente ad alcuni paesi e lentamente ad altri, mentre non si è diffusa affatto ad altri. Anche se adesso questa crisi sta leggermente toccando alcuni paesi dell'Asia. I paesi industrializzati sono stati quelli più colpiti e questo ci fa chiedere se siamo veramente in una buona posizione noi come paesi avanzati. Naturalmente l'impatto è stato molto molto forte sull'Europa. ora questa depressione, questa crisi, questa recessione non se ne va e io vi dirò perché secondo me non se ne va. E poi dobbiamo pensare che cosa possano fare mai i governi. Sicuramente possono fare qualcosa. e dobbiamo anche chiederci perché non fanno quello che dovrebbero fare. Qual è il problema? Il problema è la bassa crescita. Questo è un problema che viene spesso menzionato e talvolta oltre alla bassa crescita c'è addirittura un declino. e poi c'è la questione del debito e il rischio di default che sembra sempre all'orizzonte e molti paesi hanno i problemi di finanziarsi il debito. E poi c'è la questione della disoccupazione e io ritengo che questo sia veramente il problema con la P maiuscola. E come risultato di tutto questo ci sono state le politiche di austerità che significa servizi pubblici più limitati e questo è un problema non secondario ma anche se devo dire che il problema principale rimane la disoccupazione. Ora, vediamo che cosa è successo alla crescita del PIL in questi ultimi anni e notate che c'è un anno che è stato gravissimo il 2009 con una crescita sostanzialmente negativa ma a quel punto si pensava che i problemi sarebbero stati risolti velocemente un anno di declino e poi si sarebbe usciti dalla crisi e si sarebbe tornati ad una crescita e effettivamente la crescita c'è stata ma non così significativa. ma poi più recentemente ancora una volta il declino la recessione e questo ci dice che il problema non è scomparso. Una ragione per cui ho elencato tutti questi paesi e non mi aspetto che possiate leggere nel dettaglio tutta questa diapositiva ma ho elencato tutti questi paesi per dimostrare che ci sono esperienze diverse anche in termini di PIL. Sappiamo ovviamente che la Grecia ha avuto dei momenti davvero drammatici con un declino vicino almeno 7% all'anno e ci chiediamo fino a dove si possa arrivare. Poi un'altra caratteristica è che a parte l'anno 2009 non abbiamo dei declini davvero drammatici una recessione o una diminuzione di un punto o due punti non è gravissima a patto che non vada avanti molto tempo e potremmo pensare guardando questa diapositiva che alcuni paesi non se la cavano troppo male la Polonia per esempio non se la cava così male e anche la Germania a parte quello strano anno che è il 2009. Se vediamo il debito nazionale in questo caso ci dobbiamo chiedere quanto è importante la questione l'Italia sembra essere intorno al 120% non so da quanto tempo devo dire ecco il debito è sempre stato un po' un problema pervasivo ma è difficile però capire se di per se stesso è un così grave problema e guardiamo le cifre e non vi mostro tutti i dati perché so che altri hanno parlato della questione del debito ma vi do alcuni accenni il Regno Unito per esempio è passato da un rapporto debito PIL del 50 al 105% e questo succede ovviamente se si comprano delle banche e se si introducono le banche che si comprano nei bilanci nazionali ovviamente ma perché dovremmo preoccuparci del debito se seguiamo Paul Krugman e il New York Times saprete che lui dice che non ci dobbiamo preoccupare così tanto del debito beh naturalmente c'è il rischio di default si dice tanto più grande il debito nazionale e tanto maggiore la probabilità che ci sia un default e questa è un'opinione ragionevole ma l'argomento normale è che il debito è un segno del fatto che un governo spende quello che pensa si debba spendere senza però un controllo sull'entità della spesa nel caso della Grecia c'è in parte questa motivazione è famoso l'articolo di Reinhard e Rogoff ma il punto della loro ipotesi è che i paesi con un debito alto alla fine hanno una riduzione della crescita la gran parte di noi direbbero che la causalità va in un'altra direzione perché i paesi che hanno un debito alto di solito seguono delle politiche restrittive perché devono pagare gli interessi sul debito e questo influenza ovviamente la volontà di spesa dei governi in termini reali e credo che questo sia un punto che non è stato sufficientemente sottolineato bisogna ricordare sempre che questo lo troviamo nelle statistiche per forza c'è questo dato nelle statistiche ma bisogna considerare quali sono le implicazioni di tutti questi fenomeni e questo è il problema vero la disoccupazione che è arrivata nella eurozona sopra il 12% adesso quindi la prima cosa che voglio sottolineare a questo proposito è la seguente non soltanto è elevata la disoccupazione ma sta aumentando e continua a crescere e questo va preso assolutamente sul serio in più bisogna considerare il fatto che la disoccupazione giovanile è molto molto più alta e questa disoccupazione giovanile aumenta ulteriormente è anche molto importante nella mia linea di ragionamento porre alla vostra attenzione una cosa cioè una cosa che probabilmente sapete bene e cioè che alcuni paesi anche se hanno disoccupazione elevate non hanno un aumento della disoccupazione consideriamo poi il caso della Germania che è subito sotto la Francia nel 2005 ha avuto il picco della disoccupazione la Germania 2005-2006 poi è diminuita la disoccupazione in modo abbastanza stabile fino a di recente in questo periodo di crisi e malgrado la crisi a questo punto io so che queste cifre possono essere diverse dalle cifre che Richard Portis ha fatto vedere ieri sera la Germania evidentemente pubblica dei dati che attingono a modalità di calcolo diverse da quelle normalmente utilizzate e questo è il dato standard che io vi propongo che è quello che per esempio si trova sulle riviste di economia e anche l'Economist vediamo poi la Grecia col suo andamento in crescita forte crescita l'Irlanda poi alcuni dicono che l'Irlanda ha svoltato per così dire e sta migliorando ma la disoccupazione è ciò di cui le persone si preoccupano e su questo tra l'altro ritornerò verso la fine del mio contributo ecco la disoccupazione è quella e l'Italia l'Italia non è il caso peggiore tra questi paesi però una disoccupazione superiore al 10-11% non va bene le cose però prima erano abbastanza stabili per l'Italia sul 7% circa fino all'anno scorso e questo indipendentemente dalla crisi anche la Polonia ha un andamento analogo ha avuto una disoccupazione forte poi è diminuita e poi c'è stata un'impennata più recentemente e soprattutto c'è stato anche un impatto del fatto che i polacchi sono potuti andare altrove nel resto dell'Unione per appunto trovare lavoro la Spagna poi la Spagna trovo che sia un caso molto importante da considerare perché la Spagna ci dimostra con grande chiarezza il caso di un paese che ha avuto un forte aumento e un rapido aumento della disoccupazione di conseguenza ci possono essere pochi dubbi sul peso di questa disoccupazione in linea di principio i lavori ci sono la capacità di utilizzare queste risorse c'è ma c'è stata una vera e propria ondata di licenziamenti e questo vale per la Spagna ma vale anche per la Grecia e ci sono altri paesi in cui abbiamo un caso analogo tutto questo ci porta a tratteggiare un quadro in cui molti paesi hanno una disoccupazione un po' più elevata di quanto dovrebbe essere penso all'Austria penso alla Finlandia che ci indicano un'altra via un'altra possibilità ma altri paesi hanno una forte impennata proprio della disoccupazione e questi sono i paesi che soffrono di più dei problemi attuali in fondo c'è il Regno Unito e io non voglio assolutamente dimenticare il Regno Unito è importante il fatto che con il proprio tasso di cambio indipendente il Regno Unito ha una situazione di disoccupazione non buona ma comunque non tra le peggiori abbiamo detto che c'è stato un aumento della disoccupazione e una diminuzione della crescita come conseguenza del calo della domanda bisogna chiedersi come si correlano queste due cose e gli investimenti sono diminuiti bruscamente in molti paesi e questo all'inizio della recessione perché le istituzioni finanziarie hanno ridotto la loro attività di prestito a seguito della perdita del valore dei loro asset e per i tassi di interesse elevati alcuni si sono spaventati moltissimo anche di fronte ai prestiti diciamo così di tipo ordinario ci si è spaventati circa la possibilità di erogare prestiti in grande quantità mentre altri non lo volevano fare affatto e quindi di trovarsi in una situazione di difficoltà e ovviamente ci sono questi asset come potrei definirli strambi i derivati e quant'altro che hanno avuto il destino che tutti sappiamo di solito tutti danno la colpa alla bolla edilizia e ai subprime negli Stati Uniti ma io ritengo che questa sia parte del problema ci sono stati altri elementi che hanno causato la depressione per esempio l'elevato prezzo delle commodity delle materie prime in particolare penso al petrolio che sicuramente è un fattore che porta inevitabilmente alla recessione e questo appunto ha contribuito alla crisi generale e anche al crollo dei prezzi per esempio nel mercato immobiliare guardiamo adesso alla correlazione tra investimenti e disoccupazione o a come le due cose si pongono l'una rispetto all'altra credo che il modo migliore per affrontare questo argomento sia considerare questo sull'asse orizzontale abbiamo gli investimenti nel 2011 rispetto agli investimenti del 2006 il rapporto tra i due anni quindi ho preso il 2011 perché avevo i dati definitivi diciamo per quell'anno e poi abbiamo sull'altro asse la disoccupazione quindi abbiamo per la disoccupazione invece il rapporto tra la disoccupazione nel 2013 che sono i dati più recenti in quel caso che ho a mia disposizione e la disoccupazione nel 2006 quindi queste sono le due cose da considerare verso la sinistra del diagramma vediamo investimenti bassi e investimenti che sono calati consideriamo i paesi in cui gli investimenti sono calati del 50 al 60% addirittura in due casi questi sono i paesi che hanno avuto un forte aumento della disoccupazione in alcuni casi un aumento enorme della stessa il rapporto è ancora più forte io non ho messo qui l'India e la Cina ma vediamo che ci sono due casi a sé sulla destra paesi in via di sviluppo è una cosa interessante sarebbe bello capire meglio come mai queste cose accadono in questo modo ma questo ci riporta il punto keynesiano fondamentale cioè il fatto che l'investimento comporta un qualcosa di difficile da controllare nella sua indipendenza nel senso che genera o non genera una domanda di beni e di servizi che ha un impatto poi sull'occupazione e la disoccupazione la cosa migliore da fare nella situazione attuale sarebbe riportare i livelli di investimenti a quelli di una situazione senza recessione cioè quello che sarebbe stato fatto se non avessimo avuto la crisi se potessimo appunto fare come se questi ultimi anni non ci fossero stati evidentemente questo è difficile perché perché l'investimento è basso proprio come conseguenza della non volontà da parte delle banche di erogare prestiti ci sono anche altre ragioni naturalmente però all'inizio quanto meno questo è stato un elemento fondamentale e penso agli Stati Uniti e la politica monetaria quantitative easing compreso ha fallito nel suo tentativo di intervento su questo versante anche se si attendeva qualcosa di diverso si è stato così si è detto per esempio di portare il tasso di interesse al 0% e questo ovviamente dicevano avrebbe incoraggiato i prestiti e i crediti ma io mi chiedo veramente le banche sarebbero state incoraggiate a erogare prestiti se le banche investono sostanzialmente in loro stesse allora le prospettive di crescita sul versante reale della domanda dell'offerta sono basse e non ha più senso per le banche cercare di vendere quello che loro stesse producono e quindi perché il ritorno sull'investimento sarebbe molto basso quindi neanche un tasso 0 diciamo così sarebbe un segnale incoraggiante o un elemento incoraggiante e è molto importante pensare a modalità in cui l'investimento possa essere incoraggiato un modo sarebbe quello di avere delle assicurazioni sui prestiti questo è stato fatto in Gran Bretagna e anche in America ma le politiche adottate normalmente in Occidente hanno fatto troppo poco sono state troppo limitate forse anche sono arrivate troppo tardi un'altra modalità potrebbe essere quella di creare degli istituti di credito pubblici statali nazionalizzando magari le banche ecco questa dovrebbe essere una possibile direzione ma pensiamo di nuovo all'India e alla Cina le banche hanno continuato a erogare prestiti e le banche erano di proprietà statale credo che questo non fosse una coincidenza ma forse le imprese non vogliono investire possiamo chiederci anche questo perché le imprese pensano magari che usciremo presto dalla recessione i consumi sono aumentati per esempio in Gran Bretagna e i consumatori d'altra parte magari cambiano atteggiamento e vogliono risparmiare questa è anche una variabile possibile e in molti paesi avete visto anche nella figura precedente la disoccupazione è alta e da tempo forse perché il capitale non ha creato posti di lavoro a sufficienza in questo paese perché forse gli stipendi sono troppo alti gli stipendi minimi hanno questo effetto e molti ritengono effettivamente che questo sia stato un fattore di influenza significativo e questo effettivamente potrebbe essere un motivo per cui per esempio in Germania non abbiamo visto un impatto nel senso che la disoccupazione continua ad essere troppo elevata e le differenze regionali poi sono elevate pensiamo alla Germania dell'est e dell'ovest con tassi di disoccupazione veramente diversi da una parte del 12% quella orientale ovviamente quindi nettamente al di sopra di Toulouse della media europea mentre il 6% è il tasso di disoccupazione nella Germania dell'ovest e anche nell'eurozona ci sono differenze tra nord ovest e sud un ritorno agli investimenti non risolverebbe completamente il problema anche qui ritorno al ragionamento di prima sui bassi tassi di interesse che dovrebbero secondo la logica aiutare a far risalire gli investimenti chissà poi qual è l'effetto sull'espansione e la crescita ma comunque noi dobbiamo considerare se veramente abbiamo bisogno di una crescita rapida e una crescita del PIL ne abbiamo davvero bisogno o no pensiamo al reddito medio il reddito medio non è che abbia grossi problemi il problema è che chi ha un basso reddito lo ha veramente bassissimo e poi c'è la questione ambientale i problemi ambientali che la crescita anche comporta e il problema della pressione che noi dobbiamo esercitare sui paesi in via di sviluppo affinché non inquinino nello stesso modo che abbiamo fatto noi ma non è questo l'argomento di oggi allora cosa può essere fatto realmente perché ci sono altre cose che possiamo fare se non si può arrivare a livelli di investimenti precedenti la crisi si può aumentare la domanda statale e magari pensiamo in termini di risolvere la questione del deficit statale si parla così tanto di spese si parla tanto di investimenti strutturali magari questa non è l'idea migliore perché ci vuole un bel po' di tempo per fare gli investimenti strutturali e portarli a termine quello che noi vogliamo è un'espansione della domanda che accada per tutto il tempo che serve per fare in modo che il settore privato ritorni a livelli di domanda che aveva prima e quindi bisogna forse non pensare soltanto perlomeno agli investimenti strutturali un'altra cosa che si può fare ovviamente è ridurre la tassazione o aumentare i sussidi gli aiuti laddove aumenterà la domanda l'impatto sarà principalmente locale questa è una delle cose implicite nel grafico anche che abbiamo visto prima sugli investimenti e la disoccupazione perché se la domanda si diffonde diciamo così in tutto il mondo e non è regionalizzata non è localizzata laddove aumenta la spesa e aumenta anche il reddito allora se fosse così non avremmo questa associazione che invece abbiamo visto e allora questo significa per dirla in termini semplici che si aumenterà per esempio l'occupazione in Italia e per fare questo bisogna anche che aumenti la spesa in Italia e questo non significa necessariamente che il governo o meglio sì il governo deve controllare il proprio deficit ma può finanziarsi con prestiti da altre parti in Europa e c'è anche la diffusione della domanda in altri paesi a volte lo si chiama leakage ma questo in condizioni in cui tanti paesi sono messi tutti nelle stesse condizioni magari non buone e questo è l'effetto spillover tra la domanda e il deficit in un paese rispetto al paese vicino questo ci suggerisce effettivamente che i paesi dovrebbero parlarsi tra di loro se lo spillover è positivo e dovrebbero collaborare e se l'espansione è abbastanza grande ci si deve attendere una tensione inflazionistica nelle economie che io chiamo tight stagne per così dire l'Europa del nord e dell'ovest le regioni alpine dove il problema della disoccupazione non è così forte la Germania ho detto prima magari anche l'Italia potrebbe essere un esempio nel senso che questi sono paesi in cui se ci fosse una domanda sufficiente di prodotti ci potrebbe essere una ripercussione positiva sull'occupazione questi possono essere i paesi in cui c'è bisogno del nuovo investimento per riuscire a creare questi posti di lavoro e a quel punto il tutto prenderebbe il via c'è però un problema ed è questo che mi porta alle conclusioni a cui arrivo ed è questa per spostare la domanda verso l'economia con un eccesso di capacità che cosa si fa pensiamo che c'è un aumento di domanda supponiamo un aumento di domanda da qualche parte da un punto di vista ideale allora c'è uno spostamento verso queste economie che riescono ad attirare i lavoratori e creano posti di lavoro come si fa ad attuare questo spostamento questo ha una spiegazione che va ricercata nella questione dei prezzi e nei livelli di prezzi e questo si è visto anche per esempio con la riduzione degli stipendi in tutta una serie di paesi nell'area del Mediterraneo evidentemente però non lo si è fatto a sufficienza perché il problema grosso nel fare questo è che si peggiora in realtà il quadro perché si abbassano gli stipendi si abbassa la domanda a quel punto così tanto che i prezzi non calano nella stessa misura degli stipendi è evidente che questo non accada a causa del costo delle importazioni quindi fondamentalmente questo è un elemento che causa depressione e peggiora il quadro complessivo ed è così a meno che non si faccia l'altra cosa cioè che si espanda la domanda c'è bisogno di due politiche c'è bisogno di modificare i tassi di cambio e di aumentare la domanda nei posti giusti il problema con la riduzione degli stipendi è che si fa una delle due cose e questo ha delle ripercussioni negative comunque sia l'Unione Europea pare che si opponga ad entrambe queste cose cambiare i tassi di cambio pensiamo in termini assolutamente astratti lasciamo da parte qualsiasi considerazione di tipo politico ma concentriamoci sull'aspetto reale ecco modificare i tassi di cambio potrebbe avere un effetto e ignorare tutto questo è sbagliato e ci porta semplicemente sul versante della deflazione le restrizioni fiscali impediscono un'espansione sufficiente della domanda evidentemente e questa è la ragione per cui io suggerisco che si consideri questa possibilità c'è la possibilità di lasciare l'euro sussidiare il consumo come fanno a fare questo lo fanno con la moneta possono utilizzare il denaro se hanno la loro moneta e questo ovviamente porterebbe ad un'espansione e questo non necessariamente però comporterebbe un aumento dei prezzi ci sarebbero degli effetti di spillover quindi un impatto anche altrove questo deve essere accettato però le cose andrebbero comunque nella giusta direzione ed è anche possibile che ci siano necessari altri default ma io non voglio parlare di questa possibilità perché non succederà però questo perché mi sembra che chi ha il capitale non ama il depreciamento non piace a chi detiene il capitale il default perché la svalutazione è una sorta di default parziale i lavoratori d'altra parte non vogliono la disoccupazione perlomeno tanti di loro non vogliono la disoccupazione non tutti comunque perché se non rischiano a livello personale la disoccupazione magari non se ne preoccupano più di tanto ma uno dei problemi di recessione come quella che abbiamo avuto è che appunto non c'è sicurezza per nessuno in una situazione così grave chi poi detiene il capitale sembra optare per il controllo delle politiche per esempio per avere una certa influenza sull'aumento del valore delle azioni e delle obbligazioni e questo effettivamente è quello che abbiamo visto nel senso che c'è stata una politica che ha prodotto esattamente quello che ci si aspettava e che ha fatto bene soltanto però a chi era proprietario dei titoli e poi ci chiediamo chi possiede i capitali sono le persone un po' più vecchie perché magari se si è stati fortunati si sono fatti gli investimenti giusti e questo ha permesso di accumulare un capitale chi invece non ha il lavoro di solito sono i giovani quindi sembra che siamo in un momento di conflitto tra le generazioni e se così stanno le cose mi pare che non ci sia molto spazio di manovra per avere un'espansione e combattere per l'espansione e magari fuggire per essere l'unica soluzione rimasta come vi dicevo inizialmente la minaccia della fuga può essere anche una buona strategia di lotta nel senso che se gli stati che hanno problemi di disoccupazione forte come l'Italia ecco se tutti questi stati collaborassero tra loro e dicessero sostanzialmente alla Germania e ai suoi alleati in questa situazione o finanziate un'espansione grande nell'economia europea e soprattutto nell'area del Mediterraneo o noi ce ne andiamo dall'euro ecco forse quella politica funzionerebbe se si dicesse così so che sembrava una conclusione ma in realtà non stavo concludendo ma nessun economista è contento di risolvere i problemi a breve termine e c'è un'altra conclusione che è ancora peggio di quella precedente se raggiungiamo un livello soddisfacente di occupazione piena significa che i salari reali dovranno essere più bassi e parlo proprio dei salari reali questo significa avere meno soldi in tasca e questo significa uno squilibrio nella distribuzione del reddito significa un aumento della disuguaglianza questo è quello che è successo l'abbiamo visto negli Stati Uniti e in Cina la Cina sta cercando di porre rimedio a questo ma per tutta una serie di anni c'è stato questo effetto in uno squilibrio tra i salari e il PIL e questo ha comportato un aumento delle disuguaglianze e anche negli Stati Uniti questo è avvenuto soprattutto per quanto riguarda i salari più bassi che sono rimasti bassissimi anche nei momenti in cui è aumentato il PIL e questo lo vedremo ancora e sempre di più e credo che questo rimetta sul tavolo la questione della funzione ridistributiva della tassazione di cui ci si deve occupare questo coinvolge anche le pensioni aliquote fiscali elevate sui più ricche però non sono sufficienti secondo me le tasse dovrebbero colpire per avere un effetto almeno metà della popolazione ho finito grazie grazie James per questa relazione illuminante lei non ha consumato tutto il tempo previsto e ha passato anche qualche giorno con noi ha partecipato ad alcune conferenze di questo festival voglio approfittare del fatto che sono qui per fare io una domanda e rompere il ghiaccio una formazione comune che è stata fatta in molte presentazioni del festival è che questa essenzialmente è una crisi bancaria una crisi finanziaria poteva essere in passato una crisi mobiliare una crisi del debito ma adesso fondamentalmente è una crisi finanziaria bancaria e le economie soffrono perché le famiglie e le aziende non hanno accesso al credito e poi c'è una sorta di circolo vizioso tra le banche e il debito sovrano e i due elementi sono strettamente legati in un abbraccio mortale e se qualcuno fa qualcosa potrebbe esserci un crollo la domanda è date queste circostanze lei non pensa che l'uscita dell'euro potrebbe creare una situazione in cui ci sarebbe tutta una serie di fallimenti bancari in tutta Europa e se questo succedesse ci sarebbero dei paesi in default che non avrebbero più accesso al credito e sostanzialmente al capitale perché quando uno fallisce lo spread aumenta tantissimo e non è possibile più finanziarsi sul mercato internazionale dunque non c'è forse un rischio di questo genere oltre ai possibili vantaggi che lei ha menzionato indubbiamente la questione è seria niente di cui ho detto può aiutare a risolvere la situazione quello che ho suggerito in un certo senso è che anche se il problema esiste la radice la ragione di questa situazione è una domanda insufficiente dunque c'è qualcosa che bisogna fare bisogna correggere la situazione ma non so se correggere la situazione potrebbe richiedere anche una modifica della situazione bancaria perché d'altra parte è un problema serio perché come dicevo nella mia presentazione la risposta ideale oggi sarebbe riportare gli investimenti ai livelli a cui erano in passato ma i problemi che derivano dalla crisi bancaria sono che le persone non possono più andare a ricevere crediti necessari per fare questi investimenti e questo estremizza un po' la questione e spinge i governi a fare deficit ovviamente non è il modo ideale per risolvere la crisi ma qualcuno ha pensato di utilizzare delle politiche monetarie perché questo si dice incoraggia la domanda ma magari si sarebbe potuto fare se le banche non fossero arrivate in una situazione così grave chiaramente la questione principale qui fino a che punto possiamo permetterci dei salvataggi e chi è che deve essere salvato io guardo all'economia dal punto di vista della realtà e mi concentro sulla realtà e se la si vede così allora uno dice beh ci sono tante situazioni in cui le banche dovranno essere salvate come per esempio le banche britanniche quelli islandesi o quelli irlandesi e in questi casi per lo meno nel caso islandese si vede che è possibile poi tornare a una situazione di credito ma la risposta potrebbe essere una ristrutturazione parziale ma anche tanti salvataggi forse questa è la soluzione migliore per utilizzare il deficit pubblico che è assolutamente necessario secondo me c'erano molte altre cose che avrebbe voglia di chiedere ma sono sicuro che voi ne avete tantissime e forse non soltanto sul prossimo problema c'è l'ultima diapositiva che è qui proiettata ma quello precedente che è un problema talmente grosso che credo tutti noi vogliamo affrontare per prima e su cui le nostre riflessioni sono in questo momento per cui come è consuetudine ai nostri incontri sono qui per chiedere a chi vuole porre domande davvero brevi a Jim Merlis di alzare la mano e gli daremo la parola vedo una persona là sulla sinistra ecco se potete se potete alzarvi vi ringrazio così vi vediamo una domanda semplice ma magari la risposta non sarà così semplice perché pensa che gli stipendi reali debbano scendere per avere la piena occupazione credo che gli stipendi debbano scendere in termini nominali e anche relativamente ai prezzi internazionali questo è quello che volevo dire ma se c'è un aumento degli investimenti e dunque un aumento della domanda non mi sembra così evidente che ci debba essere anche un aumento degli stipendi nominali no quello che consigliavo io era la svalutazione per una serie di paesi una svalutazione significa una diminuzione degli stipendi relativamente ai prezzi internazionali sì ma ho capito che lei vuole ottenere questo attraverso una riduzione degli stipendi in paesi che rimangono nell'euro o che escono dall'euro beh prendo una strada larga per rispondere perché uscire dal problema significa che c'è crescita e poi ci sarà una ragione per aumentare gli stipendi ma non ho veramente riflettuto sulla ragione per cui alcuni stipendi diminuiranno forse anche per i cambiamenti tecnologici e poi soprattutto la cosa che dobbiamo spiegare è perché abbiamo così tanta disoccupazione per i lavori meno qualificati forse perché questi stipendi sono troppo alti e mi riferisco a questi quando dico che dovrebbero diminuire ecco spero di aver risposto alla sua domanda mi chiamo Lidia voglio farle una domanda sul ruolo della banca centrale europea lei pensa che abbia fatto abbastanza oppure che avrebbe dovuto fare di più e che magari la situazione sarebbe cambiata e che cosa sta facendo adesso la banca centrale secondo lei è sufficiente quello che sta facendo e poi se ci sarà una fine dell'eurozona crede che la banca centrale europea possa salvare l'eurozona e il ricatto che lei menzionava crede che possa funzionare un altro paio di domande volevo chiederle so che la banca del regno unito ha agito abbastanza aggressivamente all'inizio della crisi non solo col quantità revising abbassando i tanzi di interesse ma ha immesso molta moneta sul mercato comprando i titoli di Stato del Regno Unito questo ho letto sul sito della banca inglese che ha aiutato notevolmente a risollevare nel breve periodo l'economia del Regno Unito non è per forse perché le banche centrali nazionali non hanno più questo potere che non si è potuto ricreare la stessa situazione in tutti gli stati europei magari un tempismo migliore e questa possibilità avrebbe aiutato notevolmente grazie legata anche alla precedente domande molto belle ci sono un'altra persona là in fondo ecco che avevo visto grazie buonasera a tutti faccio questa premessa mi riferisco che l'Italia è ammalata a un tumore questo tumore risale al 2002 quando nel rapportarsi nella moneta concreta euro si è verificata una situazione a dir poco non soddisfacente nel senso che è stato fatto un rapporto uno a uno anziché 051 in sostanza gli stipendi le pensioni di tutti noi italiani ci siamo trovati a essere parametrati giusti però nel contesto della vita sociale non si è verificato questo e per questo motivo noi oggi tuttora viviamo e subiamo questa situazione cerchiamo di dare giustificazioni a interventi di banche che ma guardiamoci nella realtà questo noi stiamo avendo i consumi non ci sono più come nell'anno 2001 o negli anni passati se anzi si è verificata una situazione che si sta sempre ogni giorno degenerando anzi dirò i risparmi anche se noi andiamo a vedere i bilanci delle banche i risparmi si stanno sempre consumando perché gli anziani le persone i genitori fanno fronte ai consumi e ai giovani che non trovano lavoro questa è la condizione in cui noi oggi in Italia viviamo per cui le soluzioni le troviamo in altre forme grazie la banca centrale europea questa era la prima domanda e capisco lei ha usato la parola ricatto ma io non l'avevo usata credo che negoziare per qualcosa che è positivo non è un vero e proprio ricatto comunque è qualcosa che ovviamente non è visto come desiderabile dalla banca centrale europea la vera questione è le cose stanno cambiando le banche hanno fatto abbastanza la banca centrale europea ha fatto abbastanza sicuramente una delle cose che la banca centrale europea potrebbe fare sarebbe di prestare di più erogare più crediti ai paesi mediterranei in particolare i paesi più periferici che devono poter spendere di più come spesa pubblica intendo adesso sembra che siano più disponibili a farlo ma d'altra parte assieme alla troica impongono delle condizioni i paesi dicendo non potete spendere come dovreste spendere dovete tenervi i vostri piani di austerità ecco così vanno le cose ovviamente questa è non disponibilità a prestare ma diciamo che avessero messo da parte 500 milioni di euro beh non è detto che poi li daranno fuori a prestito e non so neanche se costituzionalmente questo sarebbe possibile magari la Germania non accetterebbe una cosa del genere poi c'è stata una domanda sulla banca d'Inghilterra e se penso che quello sia un esempio da seguire la situazione in Gran Bretagna sembra migliore rispetto a quella italiana ma non è un grande esempio da seguire alcuni potrebbero dire beh se pensiamo che sia bene uscire dall'euro perché poi la Gran Bretagna in fondo non se la cava tanto meglio di altri paesi è un'ottima domanda è come se il Fondo Monetario Internazionale dicesse alla Gran Bretagna anche tu devi fare l'austerità ma questo non avviene ma perché il Quantitative Easing non è riuscito a ottenere i risultati che ci si aspettava il Quantitative Easing è un metodo per abbassare i tassi di interesse significa utilizzare del denaro per comprare degli asset titoli azioni se il denaro venisse utilizzato per pagare degli investimenti non so se il governo elaborasse un piano di investimenti e se la Banca d'Inghilterra entrasse in questo business allora la questione sarebbe diversa ma il Quantitative Easing di per se stesso non è la soluzione il Quantitative Easing associato alla volontà di permettere ai governi di andare in deficit di accedere al credito per costruire strade e infrastrutture ecco questa è la soluzione secondo me l'Italia è malata dal 2002 mi è stato detto che c'è stato uno studio privato che ha cercato di valutare quale sarebbe dovuto essere il tasso di cambio per i paesi e l'Italia è entrata con un tasso di cambio troppo elevato questo studio dice che ci sarebbe dovuto essere un tasso di cambio più basso e certamente gli stipendi sono troppo alti io mi preoccupo sempre quando dico questo perché non so se l'avete notato io non voglio dire che la gente debba essere pagata meno non voglio che la gente riceva meno ma credo che i lavoratori debbano ricevere il giusto stipendio non a costo del loro datore di lavoro forse anche due per cui vedo quella signora la in piedi per cortesia c'è già un microfono che è stato dato davvero seguite le mie indicazioni nel dare microfono per cortesia comunque ormai vabbè c'è una persona che l'ha avuto perché io cerco di tenerne conto durante anche le risposte alzate la mano io vi vedo dunque io ho sentito in genere in questo convegno lo dicevo anche in altri in altri posti consigliare delle ricette comunque liberiste per uscire dalla crisi e quindi consigliare ancora una volta una crescita ma io vorrei far notare che queste soluzioni non portano al superamento della crisi che è una crisi globale che vede competere non a parità di condizioni dunque la crescita all'infinito non è consigliabile perché trova un limite nelle condizioni ambientali anzi noi dobbiamo consigliare sempre il riciclo di ciò dell'usato dobbiamo consigliare il non consumismo dobbiamo consigliare il mantenimento dello stato sociale perché questa è una questione di civiltà e quindi non direi di abbassare gli stipendi nelle nazioni civili che hanno raggiunto uno stato sociale accettabile ma di alzare gli stipendi e di garantire alle nazioni ai paesi emergenti emergenti quel ver far stat minimo diciamo perché ci sono dei diritti interrogabili noi non possiamo insomma tollerare che nel resto del mondo dove ci sono questi paesi emergenti la forbice si allarghi di più grazie mi sembra che il punto l'ha fatto molto chiaramente è una questione appunto sui salari allora una persona dietro scusi ma dobbiamo dare spazio anche ad altre persone per quanto concerne l'opzione dell'uscita dall'euro è un'opzione teorica ho capito io e in pratica non la possiamo fare dunque se non la possiamo fare perché pensarci invece se lei consiglia di lasciare l'euro quale sarebbe la giustificazione teorica e pratica per farlo grazie che adesso magari si alza in piedi ecco grazie professore chiedevo se non solo gli stati debbono intervenire con i finanziamenti della BCE oppure le banche debbono intervenire a finanziare il debito pubblico ma anche a spostare delle somme verso le piccole imprese perché le banche principalmente hanno investito il denaro per appunto questi titoli di debito pubblico e in Italia abbiamo aziende molto piccole e non riescono a trovare credito per quanto vale devo dire che sono assolutamente un fan del welfare state e non voglio vedere alcuna diminuzione sul versante assistenziale e della previdenza quello che succede con l'austerità è che il stato sociale nel senso di welfare state ne soffre in vari modi quindi io in realtà pongo una domanda e cioè come facciamo a porre termine a queste politiche di austerity come facciamo a gestire le conseguenze dell'austerità e non ritengo che lasciare l'euro sia soltanto una possibilità teorica ma la sua domanda mi dà la possibilità di parlare ancora un po' della serietà del problema che ne deriverebbe perché ovviamente non è facile fare una cosa del genere ed è chiaramente più difficile lasciare l'euro rispetto a quanto fosse facile entrare invece nell'euro o comunque meno difficile entrare nell'euro d'altra parte c'è un problema quello degli incentivi gli incentivi che ci sono per uscire da determinate monete e questo che cosa farebbe farebbe del male alle banche in questi paesi a meno che a meno che non ci sia una rapida efficace organizzazione di questo nuovo sistema monetario diciamo così quindi dal punto di vista pratico bisogna dire che è una cosa possibile lo dico perché questo è già stato fatto pensiamo agli accordi precedenti per l'unione monetaria in Europa che però avevano un vantaggio cioè che c'erano ancora tutte le monete ma c'erano dei costi associati e evidentemente ci sono dei costi e questo è un peccato ma sono necessari per gestire la questione i paesi sono entrati a far parte di un sistema con una stabilizzazione regole di stabilizzazione molto severe e questo ha fatto sì che i paesi europei abbiano dovuto per esempio adottare la filosofia tedesca per quanto riguarda la politica fiscale che è una politica fiscale abbastanza severa con effetti anche dannose è incredibile che lo Stato welfare state loro sia sopravvissuto così a lungo data la situazione non so quanto resisterà e poi è stato chiesto se le banche debbano finanziare il debito pubblico io credo che l'espansione di cui abbiamo bisogno possa essere finanziata sul versante monetario ma ci sarà un altro elemento necessario io ritengo che qui debba intervenire la banca centrale europea e questo ci riporta in effetti al fatto che avremmo una banca che finanzia il debito pubblico ma questo chiaramente è uno dei problemi del sistema bancario così come lo abbiamo oggi i governi gli stati e questo deriva in automatico dall'austerità i governi dicevo cercano di far sì che le banche diano la priorità assoluta al governo con una stretta creditizia sugli altri versanti per cui non appena lo Stato si sente povero diciamo così allora si deve intervenire in quel modo e questo crea dei problemi è un punto importante questo da affrontare e so e qua sto parlando delle piccole aziende so che ovunque le piccole aziende hanno grossi problemi e credo che questo veramente sia uno dei punti su cui dobbiamo intervenire ci ho riflettuto su questo aspetto e mi è venuta in mente soltanto una soluzione di tipo di vecchio stampo socialista e penso che la Cina e l'India siano buoni modelli da questo punto di vista molto importanti che il professor Merlis ha detto nelle sue risposte che mi piace enfatizzare ulteriormente perché magari nelle risposte sono passate in secondo piano la prima è che non abbiamo un precedente storico di una disgregazione di un'unione monetaria abbiamo avuto dei rilineamenti nella banda per esempio monetaria in Europa in passato ma con i paesi che mantenevano comunque una loro moneta avevano una loro moneta questo sarebbe un episodio senza precedenti quindi ci sono una serie di come le chiamava difficoltà pratiche anche nel concepire cosa accadrebbe in un caso come questo una seconda affermazione anche che credo sia importante anche in risposta ad alcuni dei commenti fatti sulla questione salariale c'è una disoccupazione elevata una disoccupazione che colpisce il lavoro poco qualificato in diversi paesi bene c'è anche una strada che può essere quella che da una parte renda un po' più alti salari netti delle persone un po' più basso il costo del lavoro per le imprese che assumono questi lavoratori e la strada è quella di concentrare le riduzioni fiscali su questa fascia di lavori oppure introdurre anziché dei sussidi di disoccupazione dei sussidi condizionati all'impiego sussidiare l'occupazione anziché sussidiare altre cose credo che questa sia una riflessione molto importante anche per le scelte che devono essere fatte all'interno del nostro paese ma io voglio nuovamente ringraziare il professor Merlis per la sua splendida lezione per essere stato con noi in tutti questi giorni del festival dell'economia una dimostrazione ulteriore del fatto che il festival è un'occasione di incontro tra persone che lavorano a fondo su questi temi proprio anche per condividere delle idee e scambiare delle opinioni ma dato che siamo all'iniziativa conclusiva del festival io non posso che ringraziare innanzitutto la città di Trento nel suo complesso e coloro che sono venuti da fuori Trento per partecipare ai nostri incontri il contributo del pubblico è sempre stato fondamentale perché le domande poste dal pubblico trovo sono davvero sempre di grandissimo livello e ci fanno pensare riflettere e stimolano anche i nostri relatori ad affrontare dei temi che magari non avevano neanche lontanamente pensato ma soprattutto il festival di Trento è possibile grazie allo sforzo enorme di organizzazione di gestione e alle risorse della provincia di Trento che qui è rappresentata al massimo livello da Alberto Packer che vorrei invitare qui sul tavolo e poi il comune di Trento che qui credo sia rappresentato da Lucia Maestri l'assessore della cultura del comune il festival è un lavoro collettivo e il comitato editoriale del festival composto da Innocenzo Cipolletta Paolo Collini e Giuseppe La Terza è davvero fondamentale perché tutto ciò avvenga e poi c'è un'amministrazione davvero efficientissima che rende tutto possibile io continuo a ricevere messaggi dei relatori felici che dicono che non ha mai visto un evento organizzato meglio e gli chiedo che noi chiamiamo qui una persona che sicuramente ha ruolo principale ma dietro a lei dobbiamo ringraziare tantissime altre persone che purtroppo non possiamo invitare anche perché qui il palco è limitato invito qui al tavolo Marilena De Francesco e poi ancora due persone che ci tengo particolarmente a ringraziare perché sono due persone che ci sono aggiunte al festival non c'erano la prima edizione del festival ma hanno seguito subito dopo e adesso però quando penso al passato dico come abbiamo fatto senza avere loro nelle prime edizioni sono queste due persone Pino Donghi e Tonia Mastrobuoni che davvero hanno dato anche a questa edizione del festival il loro contributo il loro imprinte fondamentale grazie ma che meraviglia con un premio Nobel col contributo di un premio Nobel si è aperta questa edizione del festival e con il contributo di un premio Nobel si chiude l'edizione di questo festival tra questi due premi Nobel in queste giornate si sono incrociati nelle nostre sale nelle strade nelle piazze della città nelle piazze di Rovereto sono incrociati economisti filosofi giornalisti decisori politici insomma e ciascuno di questi ha portato e ha lasciato un'idea ha lasciato una suggestione ha lasciato una provocazione anche alle volte ha lasciato un contributo per la nostra riflessione perché vedete questo festival questa ottava edizione così come quelle che l'hanno preceduta non viene organizzato per ribadire un'idea ma viene organizzato per proporre delle idee e per lasciare alla fatica di ciascuno di noi di cercare la propria strada tra queste idee di utilizzare questi contributi per capire qualcosa di più per farsi un'idea di quello che ci sta succedendo intorno per elaborare anche perché no la propria idea di come uscire da questa situazione difficile quindi è una sfida bella anche faticosa quella che il festival consegna a ciascuno di noi insomma è davvero un'alchimia particolarissima questo festival abbiamo ingredienti importanti lo abbiamo visto le persone che sono qua con me sul palco sono persone davvero straordinarie ciascuno ci mette davvero molto di più di quello che sarebbe necessario ecco ci mette davvero molto di più ci mette passione ci mette tanto tempo tanta energia tanta convinzione tanta voglia di fare questo festival e questo è davvero il motivo per cui tutto questo funziona è stato anche ricordato e ringrazio Tuberi per l'averlo voluto sottolineare di come il festival riesca in questo modo anche perché ci sono tante persone che si danno da fare a titolo professionale a titolo volontario anche davvero decine e decine ed è grazie a loro ed è davvero grazie a loro che questo può accadere è presto oggi per fare dei bilanci elaboreremo i numeri capiremo di più dalle statistiche dalle presenze dal conteggio insomma faremo dei bilanci strutturati quello che si può dire però che il bilancio il primo quello che viene come dire a percezione empatica quasi di pancia ecco è quello che si è sentito in questi giorni girando per la città lo dicevamo prima forse cioè si gira per la città e si vede persone contente persone che sorridono persone incuriosite questo è il vero risultato importante di questo festival l'avresti fatto passare tre giorni importanti di pensiero e di riflessione però guardate tutto questo questi ingredienti importanti questa passione questa competenza insomma sono davvero componenti di una biochimica importante che rende questo festival un'alchimia particolarissima però tutto questo non accadrebbe senza il vero e proprio diciamo così enzima catalizzatore delle reazioni chimiche che permettono a questo festival di essere quello che è e questo enzima siete voi è il pubblico del festival è il popolo del festival è la vostra e la nostra curiosità è la voglia di capire un po' di più la voglia di esserci la voglia di confrontarsi con scenari diversi la voglia di guardare un po' più avanti ecco è il popolo del festival quello che rende questo festival così particolare quindi io voglio chiudere questo saluto e naturalmente con un grande arrivederci al prossimo anno la nonna edizione di questo festival tra poche settimane forse annunceremo quale sarà il nuovo titolo del festival del prossimo anno ma voglio chiudere questo momento finale con un ringraziamento davvero molto forte che mi sento di fare non solo a nome di tutti gli organizzatori di tutti coloro che hanno collaborato a rendere questo festival possibile ma anche a nome anche della nostra comunità della nostra comunità trentina della nostra comunità cittadina voglio farlo a voi al pubblico a chi ha reso possibile tutto questo con le proprie presenze con le proprie domande col proprio esserci senza di voi il nostro festival non sarebbe la stessa cosa all'anno prossimo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.